Essere curvi e essere felici di se stesse, essere felici delle proprie rotondità a star bene nel proprio corpo e soprattutto imparare a esaltarne la bellezza, accettarsi per quello che si è e valorizzarsi attraverso la moda e il make up. Essere curvi significa essere femminili esattamente come una donna che ha una figura snella e slanciata. Le donne curvi si sono liberate del conformismo del loro peso e si sono impossessate di nuovo del loro essere belle. Per la prima volta negli ultimi vent'anni le donne più formose possono sentirsi rassicurate da questa parola. Essere curvi non è più una connotazione negativa, bensì ricorda la sinuosità di Afrodite, la dea greca dell'amore, della fertilità, della generazione, della bellezza. Con i suoi fianchi prosperosi e le sue forme morbide, Afrodite ricorda alla donna di oggi che la femminilità non è più una questione di peso. De coltè prosperosi, gambe tornite, fianchi abbondanti, visi d'angelo, la bellezza è generosità e soprattutto stare bene con se stessi. Oggi sappiamo che la bellezza, la classe e la felicità non sono più una questione di peso ma di equilibrio tra mente e corpo. Cecilia Verini ci racconta della donna Glemur e Curvi by Musani. Il DNA della collezione è racchiuso in questi capi che ora vi racconterò. Il primo è un abito di chiffon reso leggerissimo da questo tessuto impalpabile ed estremamente estivo. L'abito ha una scollatura importante tempestata di pizzo e strass per creare questo effetto vedo non vedo. Le maniche lunghe in un preziosissimo chantilly, lo spacco ne rappresenta la caratteristica più sexy per essere moderne e assolutamente giovani. Ideale per un garden party, ha i colori delle spiagge del salento ed è ideale sia per le bellissime bionde che per le sublimi donne more. Il secondo capo è questo abito corredato da un poncio estremamente particolare realizzato con un delicatissimo pizzo francese e arricchito da degli strass nella scollatura. Questa caratteristica di prodotto è assolutamente unica nella collezione Musani perché si ispira alla necessità di avere una copertura importante con sotto un abito di chiffon leggerissimo che una volta tolta questa bellissima copertura, mantella, diventa un abito anche molto utilizzabile in altre occasioni. Quindi ha l'eleganza e la raffinatezza di un capo importante ma anche la versatilità di un capo che diventa divertente da utilizzare anche da solo. La Musani Curvi è conosciuta per il capo spalle e per il tagliere in particolare. Questo ci rappresenta in modo sublime. La giacca è ricchissima, lavorata con delle paillettes sia lucide che opache su un fondo color chiaro, uno champagne, che esalta benissimo la tonalità delle paillettes e tutte le sue sfumature. La giacca è di taglio sartoriale, estremamente particolare anche nella scollatura completamente ribordata e preziosa e anche nell'abito. L'abito di linea altrettanto sartoriale ha un dettaglio nella scollatura che lo rende prezioso e assolutamente elegante. Il completo rappresenta benissimo quello che vuole essere il prodotto Musani Curvi, un prodotto sofisticato di haute couture e di bellissima caratteristica. Questo finto due pezzi rappresenta in modo perfetto la filosofia della Musani Curvi per il pubblico più giovane. Il tessuto che abbiamo utilizzato per la gonna è un jersey elasticizzato che rende sinuose le forme ed estremamente seducente il corpo. Il décolleté è stato creato ad hoc con un tulle color nudo perché attraverso il gioco degli strass si crea un effetto tattoo estremamente di tendenza ed estremamente seducente. Le spalle sono rese importanti da questa nudità dell'omero che naturalmente racchiude una sensualità che piace molto alle nostre clienti ed è gradita in tutte le nostre collezioni. Grazie a tutti.